Quanto è stato bello partecipare a questa competizione? E' emozionante, bellissimo! E quali sono i sogni per il tuo futuro? Io voglio diventare una stilista! Cosa si senti di consigliare a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa competizione per essere felici e soddisfatti a livello professionale? Allora, l'impegno è quello che ci vuole in tutti i lavori, nel mestiere sarto molta pazienza, professionalità, l'impegno, la pazienza e in virtù di quello che è la moda riuscire ad adattarsi a tutte le varie sfaccettature che la moda ci propone.